ciao benvenuti ragazzi e ragazze oggi andiamo a vedere l'oroscopo per il mese di novembre 2022 lo faremo inizialmente con l'astrologia quindi vedremo i transiti planetari che cosa ci promettono vedremo un po le stelle gli astri che cosa raccontano per il mese per il tuo segno zodiacale dopodiché passeremo ad interrogare anche i miei tarocchi ti ricordo che questo video vale se hai il sole la luna o l'ascendente in questo segno zodiacale e ti invito quindi a guardare proprio anche i video per i segni zodiacali appunto del tuo sole della sua luna del tuo ascendente e volendo anche della sua venere perché anche quel passaggio lì può parlare molto su quello che vivrai nel mese di novembre ok io direi di partire subito e vediamo un po l'oroscopo per novembre 2022 per il tuo segno zodiacale che cosa ti prometti allora gemelli le stelle per te cosa raccontano la prima cosa che mi viene da dirti qui il lavoro qui per il segno dei gemelli sicuramente ci saranno dei movimenti almeno nelle prime due settimane due settimane e mezzo di novembre molto molto positive per il lavoro sole mercurio venere dalla sua senz'altro una qualche novità te la possono portare ma novità nel senso positivo poi è ovvio io quando parlo ormai non ve lo dico più ma nel senso qui siamo in generale è ovvio e poi ognuno di noi ha un tema natale particolare un tu una voglia essere gemelli se tu hai 440 mila pianeti in sagittario piuttosto che che ne so io in vergine in pesci il discorso un pochino non che cambia però ci saranno anche altre influenze che possono un pochino livellare quello che io ti dico per forza di cose ok però presa proprio così in generale qui mi sembra che il lavoro sicuramente vedrà una svolta positiva ci sono delle novità positive sul lavoro qui vedo molto ti vedo molto amato gemelli sul luogo di lavoro quindi non lo so o i colleghi o i clienti se tu sei anche per esempio che ne so io nella comunicazione via dicendo la cosa potrebbe un po cambiare no non è vero cambiare però insomma ecco avere una piccola battuta dal resto un piccolo cambiamento diciamo dalla terza settimana di novembre in poi perché dico questo perché questo stesso sole mercurio e venere che erano in scorpione mi passano nel segno del sagittario che è un segno a te opposto ora qui ci possono essere delle visite magari non gradite per esempio magari che ne so ti tocca pipati quella festa famiglia e te proprio non tu vorresti o persone ti tocca vedere incontrare o sentire persone che tanto simpatiche non ti sono capito ecco ma tu capisci cose così non sono cose che ti cambiano la vita in peggio o in meglio possono essere un po' antipatine da quel punto di vista lì ecco quello che vedo il supporto di giove che camminava nell'ariete per tutto ottobre qui viene un po' a mancare perché giove dall'ariete torna anche se momentaneamente torna indietro nel segno dei pesci e a te potrebbe dare un po' fastidio forse proprio da quel punto di vista lì cioè nel senso tanto il lavoro era protetto nelle prime due settimane e tanto tu potresti avere qualche noia dalla terza in poi con questo giove torna indietro con questo mercurio e venere dal sagittario ok diciamo che ci può essere un progetto una sua ambizione che potrebbe semplicemente un pochino tardare tutto qua c'è umore nessuno magari non lo so tu puntavi ad avere determinati risultati invece tu ne avrai un pochino meno ma insomma non vedo nulla di così drastico ora andremo a vedere naturalmente anche le carte vedremo i tarocchi che cosa ci dicono quello che mi piace però va saputo dosare è questo marte e ancora nel tuo segno zodiacale quindi tu ce l'ha sui sole o sull'ascendente se tu sei ascendente cioè me come posso dire questo marte in gemelli ci dà la carica ci dà il fuego il desiderio la voglia la spinta l'energia di fare dall'altro lato però almeno ti ripeto dalla terza settimana di novembre in poi con questo mercurio venere sole in sagittario ci può essere qualcuno che ti fa opposizione che ti può letteralmente mettere un pochino i bastoni fra le ruote potrebbe rallentare per esempio devi fare un qualche cosa tu lo fa volentieri ma tu ti devi spostare di più per esempio oppure viceversa qui ci può essere un qualcosa per esempio per andare al lavoro ti tocca viaggiare tre ore tu le perdi per strada cioè tutte cosette di questo tipo che tu mi capisci non sono cose non sono cose che ti cambiano la vita in peggio anche perché saturno è ancora in acquario e ci sta ancora per un bel pezzo quindi non solo non hai come si dice saturno contro ma tu ce l'hai dalla sua un bel trigonone al sole ti posso garantire che saturno è sempre bene averlo dalla sua dalla nostra ok averlo favorevole quindi marte saturno a congiunti in trigono al tuo al tuo sole quindi sicuramente le cose molto positive ci sono specialmente per lo studio vivendo a pensare allo studio tu potresti avere un professore ma anche più di uno che ti prende sotto la sua ala e ti aiuta ok che ti aiuta a preparare gli esami insomma io me ne intendo ma tu lo saprà se un corso che tu devi fare sempre per lavoro ok a questo potresti avere un professore o un tuo superiore come ti stavo dicendo che ti aiuta e via dicendo quindi un mese di novembre tutto sommato tutto sommato positivo favorevole con qualche rottura ma la vita è così andiamo a vedere gli oracoli volume 2 che ho creato io trovi il link giù in descrizione ma se vuoi avere queste carte puoi mandarmi una mail le carte di pennello per chiocciola gmail.com per avere informazioni va bene allora vediamo con gli oracoli volume 2 il mese di novembre dei gemelli il mese di novembre 2022 per il segno zodiacale dei gemelli novembre 2022 per il segno zodiacale dei gemelli allora aspetta cosa cosa porterà cosa accadrà al segno zodiacale dei gemelli nel mese di novembre 2022 allora il passato è ancora presente nei ricordi quindi qui c'è un qualcosa di passato di vecchio ovviamente che si potrebbe ripresentare o almeno qui potremmo ricordare ripensare andare indietro con la mente appunto a un qualcosa di passato quindi una certa nostalgia passami termine effettivamente vedi l'apparenza inganna non tutto e come sembra quindi questo ripensare rimuginare richiamare il passato la malinconia i ricordi potrebbero far cambiare il tuo umore o comunque crearti un po di buio vedi un po di confusione ok ma andiamo a vedere messe di novembre 2022 per i gemelli io credo sia un po in inno anche sto giove in pesci che può portare un po no questa come ti posso dire questa nebbia basta mi termine in questa nebbia magari un po questi ricordi un po un po annebbiati che ti possono creare vedi e la perdita quindi io credo che qui semplicemente ci sia come qui c'è il passato io non credo che tu debba perdere nessuno io credo che qui ci saranno dei momenti in cui il gemelli è un bambino che sento gente dire dei gemelli sono farsi e sono queste sono quello io invito a chi dà dei falsi e dei doppi ai gemelli di cambiare mestiere o di bere meno ok ecco quindi il gemelli è un bambino è un bambino che cerca l'amore perché tutta testa tutto cervello ha bisogno di cuore quindi io credo che qui il segno zodiacale dei gemelli mi ha tutti i mesi ma potrebbe vivere dei momenti anche grazie a questi transiti che abbiamo visto diciamo così che si potrebbe molto guardare indietro ecco si potrebbe guardare indietro guarda addirittura tu ti potresti mettere a riguardare delle foto magari tutte le trovi in mano che ti possono creare un po d'angoscia capito magari hai perso qualcuno quindi c'è il ricordo di questa persona ti può creare un po di malinconia cose di questo cose di questo tipo ok però vediamo l'ultima parola e la diamo ai tarocchi anche questo è un mazzo a dire il vero il primo mazzo che ho creato io i tarocchi questo è il volume 1 se sei interessato a queste carte mandi una mail le carte di penelope chiocciola gmail.com ma te le lascio anche qui sotto è sotto al video trovi il link per andarle a vedere il video dove le presento allora segno zodiacale segno zodiacale gemelli mese di novembre 2022 cosa vedete accadere ai gemelli cosa accadrà al segno zodiacale dei gemelli nel mese l'intero mese di novembre 2022 che novità ci sono per i gemelli segno zodiacale gemelli ok prima la prima carta il cinque di denari segno zodiacale dei gemelli ok cinque di denari la temperanza 4 di denari il 7 di spade che è uscito capovolto e lotto di lotto di coppe ma qui sembrerebbe che un qualcosa vedi qui nel taglio c'è il sole qui si passa dal buio alla luce qui si passa dal buio alla luce ma guarda qui ci potrebbe essere sicuramente un dono che arriva un dono quindi posso vedere dei denari che arrivano senz'altro una situazione che tenderà a sistemarsi mi verrebbe mi verrebbe da mi verrebbe da dire guarda che ci potrebbe essere nel mese di novembre ovviamente non solo quello però le carte me lo mostrano quindi sicuramente può avere una certa importanza una certa rilevanza per te qui mi fanno vedere un inganno che viene scoperto un qualcosa che viene alla luce o comunque un regolamento di conti qui ci potrebbe essere un regolamento di conti nel senso o che voi vu scoprite qualcuno capito vu scoprite diciamo così un qualche d'uno qualcuno che tramava contro di voi o che comunque non era lindo sincero come vorrebbe insomma invece il sole no e via dicendo ecco un uno smascherare qualcuno posso usare questa parola uno smascherare qualcuno ecco qui ce lo posso proprio vedere ci sta proprio alla grande vi potreste addirittura anche poi di conseguenza allontanare da questa o da queste ovviamente o da queste persone cioè prenderne proprio le prenderne le distanze in un certo qual modo però insomma io vi vedo come si dice cascada ritti si dice dalle mi parti cos'è questo sette di spade capovolto ditemi un po cos'è quel sette di spade rovescio per i gemelli come lo devo interpretare in questo caso vediamo di che cosa mi parla e vedi la torre guarda la torre e il re di coppe del taglio qui c'è veramente senz'altro la lo smascherare qualcuno per esempio se ne dico una ma te ne dico una qualcuno che si spaccia si spacciava per qualcuno e voi venite a scoprire è totalmente un'altra persona cioè qui c'è proprio lo scoprire il rivelare qualche cosa un qualcuno che si rivela in un certo modo invece che in un altro in modo anche abbastanza anche abbastanza inaspettato qui c'è una convinzione che crolla che viene meno e che può riguardare questo re di coppe ok un personaggio molto carino per carità potrebbe essere anche un padre anche un padre quindi magari veniamo a sapere qualcosa di lui insomma questo poi lo saprete voi per ognuno può essere un personaggio una persona diversa per chi il padre per chi il compagno per chi la persona che piace insomma bla 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 ok gemelli comunque io non lo vedo per niente un mese un mese negativo qui se avete degli esami dei concorsi da fare delle prove da superare qui ti possono andare ti possono andare senz'altro bene c'è un invito che ti potrebbe arrivare da una persona che magari non sentivi da un po di tempo che tu avevi perso di vista non ci dimentichiamo che qui c'è il passato qui c'è un rivedere o un risentire qualcuno di vecchio qualcuno di antico no di vecchio nel senso che vecchio di vecchio nel senso nel senso passato e poi se tu ti dovesse ritrovare a passare qualche giornata un pochino più triste nel senso malinconico a ripensare no ripensare a qualcuno eccetera eccetera non ti preoccupare ci saranno i bassi ma ci saranno anche gli alti nel mese di novembre io vedo non dovrei dirlo però preferisco vedo più favorevoli più positive per voi le prime due settimane del mese di novembre quindi se voi avete qualcosa che vi sta a cuore che dovete fare cercate di sfruttare di più quei 15 giorni lì che non la seconda parte del mese mi piace di più va bene gemelli un bacione fammi sapere i giorni commenti che cosa che cosa vivi e che cosa ti portano a che cosa ti portano queste carte io ti aspetto ovviamente sempre qui al prossimo video ciao gemelli eccoci qua vi lascio ai miei vino eccoci qua